Sono Mario Rossi, presidente della società amici del cuore di Fossano e Mondovì, siamo nati nel 2011, quindi ormai sono 10 anni oltre, ci sono 238 attualmente, quindi è un bellissimo numero, divisi anche in una società, in una zona intermedia che è Trinità. Quindi abbiamo Mondovì, Fossano come sede di attività fisica adattata, l'ambiente è molto vero, siamo molto felici di aver accettato la proposta di Giuliano Turco, perché secondo noi l'ospedale è fondamentale, se la gente è un libro no, la scienza è per tutti, dovete notare come la medicina è una scienza enorme, come difficoltà, ci sono delle conoscenze enormi, bisogna quindi studiare in un caldo il medico, non avere anche voglia di impegnarsi. Mi sembra che i due giovani che ho ben conosciuto, i locali sono ragazzini, uno di Piazza e l'Originario, altri di Sottoletto, sono molto validi e quindi pensiamo di aver speso bene i soldi che dovremmo mettere in balto. Questo è un contributo per tre mesi? Non tutto l'anno, quindi dovremmo che continui, perché se loro continueranno siamo sempre disponibili a continuare. Grazie. 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 Grazie.